Signora, posso chiederle come sta vivendo la situazione? Preoccupata? Abbastanza, abbastanza preoccupata. Lei è uscita adesso per andare in farmacia, rientrerà a casa, sarà a casa? Sì, sta a casa, anche perché nella nostra zona sono piene di infetti, infettati. Posso chiedervi come state vivendo la situazione, siete preoccupati? Abbastanza, in paese abbastanza, perché sono verificati alcuni casi che non immaginavamo. Sì, il sindaco ha chiuso le scuole, lo sa tutto. Ha chiuso le scuole, c'è stata un'ordinanza di ieri sera, sì, sul Tardi. Lei è uscita per fare la spesa? Eh, farmacia, è indispensabile. Adesso torna a casa? Certamente, subito. È preoccupato per la situazione? Sì, molto. Preoccupato? Molto, perché sono vecchio, inseriamoci, se no no. Però una passeggiata la sta facendo? Quella si deve fare, se no non si muovono più queste qua. Fa bene anche al cuore, diciamo. Fa bene anche al cuore. Sì, esatto.